Ben ritrovati a tempo di anniversario oggi con un artista italiano che ha colpito al cuore e conquistato il cuore dei suoi fan. E infatti parliamo in questo spazio odierno proprio di Cuore, un album datato 1984. Era il nono dell'artista e il secondo lavoro uscito per l'Ainz Music, ristampato su CD dalla stessa casa discografica agli inizi degli anni 90. Il 33 Giri, i cui testi e le musiche sono dello stesso venditti, contiene alcuni brani che affrontano temi politici come per esempio Qui e l'Ottimista, mentre a partire dal disco successivo questa tendenza andrà scemando. Dall'album fu poi estratto anche il 45 Giri, Ci vorrebbe un amico su lato A e notte prima degli esami sul lato B. Ma cuore soprattutto il racconto di un viaggio di ritorno fisico e mentale. Quello che vede la voce di Buona Domenica tornare dall'Abrianza a Roma coincide con la sua rinascita personale e artistica. Nel castello di Carimate, in provincia di Como infatti, dove se credi ai fantasmi ne vedi di continuo, come diceva Ricchi Portera degli Stadio, Antonello Venditti si era crogiolato e forse fin troppo tempo, ripensando alla fine della storia con Simona Izzo. Si era esiliato lì, in questa antica fortezza, diventata poi una sala di registrazione, dove andavano incidere i loro dischi anche Lucio Dalla, Fabrizio De Andrei, Pumia Martini, tutti per sfuggire proprio alle macerie di quello che era stato magari un problema nella loro vita, lui in particolare per il matrimonio fallito. In crisi mistica e anche artistica aveva provato a tenersi impegnato, rendendosi utile per altri artisti e aveva inciso per esempio i cori su Monte Cristo di Roberto Vecchioni, oppure con un intervento su Trasparenze del chitarrista Riccardo Zappa o ancora Suonando il pianoforte in Roma Sparita di Luca Barbarossa. Però raccontò, ero completamente solo, senza casa, senza moglie, pergiunta in crisi economica, dovevo ricostruire la mia vita partendo da fondamenta di buio, stavo sui merli del castello e avevo giramenti di testa, strane tentazioni suicide, così appunto avrebbe raccontato nel 2009 nell'autobiografia l'importante è che tu sia felice, anzi infelice nel titolo originale. Era stato proprio Lucio Dalla a tendergli in quel momento una mano e Venditti lo aveva incontrato un giorno in autostrada all'altezza di Bologna durante il suo girovagare avanti e indietro senza una meta precisa. Dalla gli aveva raccontato che aveva scovato tra i vicoli di Trastevere una casa bellissima in vendita e così riuscì a convincere di fatto Venditti a tornare nella capitale. Un anno e mezzo prima dell'uscita del disco di cui stiamo parlando, esattamente a novembre dell'82, nel giorno in cui Venditti aveva messo per la prima volta piede nella casa Trastevere, aveva anche fatto portare dalla dita dei trasporti solo un mobile, il vecchio pianoforte Anelli, su cui qualche anno prima aveva composto Sora Rosa con i tasti laterali un po' bruciati dalle sigarette. E come per magia erano nate tre canzoni, una era Ci vorrebbe un amico, dedicata a Lucio Dalla, la seconda, note prima degli esami, la terza, Grazie Roma, che poi diventerà la colonna sonora dei trionfi della squadra dei giallorossi verso lo storico Scudetto festeggiato al Circo Massimo a maggio dell'83 con la squadra guidata da Nils Lidholm. E allora riascoltiamo proprio Grazie Roma qui su Non Solo Suoni.